L'inquinamento dell'aria non è dovuto soltanto al traffico veicolare. In Piemonte il 50% delle PM10, le polveri sottili, proviene dalla combustione di biomasse legnose e il pellet di scarsa qualità o illegale peggiora gravemente la situazione. A dirlo è l'Agenzia regionale per l'ambiente nella sede della regione Piemonte in Piazza Castello, dove è stata annunciata un'operazione congiunta tra ARPA e carabinieri del nucleo forestale, volta ad intensificare l'attività di controllo e campionamento del pellet destinato al riscaldamento. Il dato è stato il superamento in questi giorni, nelle ultime settimane appunto del PM10, di queste polveri sottili, che nonostante tutte le limitazioni che sono state applicate nell'accordo Bacino-Padano e nella città metropolitana di Torino addirittura oltre, fino al semaforo Viola, in realtà non si è mai usciti dall'emergenza finché non ha piovuto, non c'è stato vento. Quindi è necessario intervenire a 360 gradi anche sul riscaldamento in maniera significativa. Al 31 dicembre 2019 quasi la metà degli apparati ispezionati in Piemonte sono risultati non in regola, per superamento di emissioni di ossidi di azoto, mancata manutenzione ed errata o mancata contabilizzazione del calore. Investire sulla ricerca, sullo sviluppo e dunque su nuovi impianti e materiali è necessario, non solo a livello regionale ma per tutto il Bacino-Padano e a livello nazionale. Questa è solo la prima operazione, ha sottolineato il vicepresidente della regione Piemonte Fabio Carosso. Ci saranno altri momenti di sinergia traenti per guardare al futuro di un Piemonte con aria più pulita. Per contrastare il fenomeno anche il cittadino può imparare a riconoscere il materiale di qualità. Il pellet infatti è diffuso nelle zone montane e in provincia come pure in città, dove i dati sono di poco inferiori alla media registrata nel resto del Piemonte. Il pellet, la legna è assolutamente un materiale nobile e importante ma deve essere di altissima qualità. Quindi dobbiamo far capire cosa si può acquistare, cosa si può bruciare e da questa parte la regione deve fare un piano di comunicazione importante ed incentivo anche per la rotamazione delle stufe vecchie che sono molto inquinanti.